ciao a tutti vediamo come fare questa torta con grano saraceno ho preparato gli ingredienti ecco questo il grano saraceno macinato grosso e tutto il resto zucchero tuorli e albumi ho separato i tuorli dagli albumi la frutta secca macinata il burro fuso il zucco di arancio e tutto il resto metto il burro che ho fuso a bagnomaria dentro la ciotola per comodità della planetaria ok aggiungo i tuorli la ricetta l'ho presa direttamente dal sito della rieper molino rieper frullo con le fruste un pochino giusto per amalgamare e poi aggiungo anche lo zucchero ci verso poi il succo d'arancio con la buccia grattugiata la scorza mettiamo anche la vanillina un po di cannella io la metto così ad occhio e poi la frutta secca vedete è macinata deve rimanere un po granulosa giro un pochino e poi posso versare la farina eccola qua vedete è macinata grossa quindi rimane molto molto grezza diciamo molto rustica ci mettiamo anche lievito la farina di grano saraceno non contiene glutine quindi va bene anche per i celiaci continuo a mescolare è un grano comunque pieno di sostanze nutrienti che fanno molto bene alla salute ora tolgo tolgo le fruste vedete il composto rimane un po duretto proprio così poi mettendo gli albumi montati a neve si ammorbidisce eccoli qua monto gli albumi oppure fatelo prima è lo stesso li monto a neve ferma ancora un altro pochino e ci siamo adesso versiamo l'albume a cucchiaiate un po per volta in due o tre volte diciamo ne mettiamo un po e giriamo no questo questo cucchiaio non va bene ci ne metto uno eccolo qua e mescoliamo così dal basso in alto questa è una torta che trovate in tutti i punti ristoro in montagna in alto adige in trentino è molto buona anche sulle malghe veramente squisita finisco di inserire tutto l'albume vedete mano a mano si ammorbidisce l'impasto ok nel frattempo ha acceso il forno così si scalda a 170 gradi bene l'impasto è pronto ho preparato questo suolo con la cerniera l'ho imburrato e infarinato però potete mettere anche volendo la carta forno il diametro è di 25 cm però se volete potete fare mezza dose e usare un soletto più piccolo allora ci verso dentro l'impasto ok e lo livello un pochino a posto e siamo pronti per infornare quindi abbiamo detto a 170 gradi per circa 40 minuti poi fate la prova a stecchino quando è bella colorita sopra la tirate fuori eccola qua e una volta fredda la taglio in orizzontale per poterla poi farcire vedete come è cresciuta anche eccola qua questa è la marmellata di mirtilli marmellata trentina anche questa oppure questa torta ci va o marmellata di mirtilli oppure di lamponi è il classico quindi qui ci metto tutto il barattolo così la faccio bella consistente ok livello bene e metto l'altro disco sopra sopra va spolverata di zucchero a velo però fate voi insomma anche semplice e buona lo stesso ora non ci resta che assaggiarla molto bella si presenta molto bene anche la fetta vedete perfetta e vi assicuro che è buonissima bene amici io vi ringrazio della visione provate a farla avete visto non è difficile perché è veramente buona ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao